ombre bianche che bella che bel titolo un film del 1960 per la regia di nicolas ray ombre bianche perché innanzitutto il protagonista il grande anthony queen è un film particolare perché parla di una coppia di esquemese nell'estremo nord del canada che per vivere devono affrontare diverse peripezie succede anche un fatto un po particolare però come al solito non voglio non voglio rivelarvi troppo perché così non voglio a vedere il film però il film è un film di una grande lirica un film poetico un film bello dolce innanzitutto la fotografia bellissima di questo antartide dove dove vivono questo luogo così in ospitale che per questo freddo difficile muoversi difficile vivere difficile difficile anche trovare una moglie anche per il protagonista del film in hooke interpretato da da queen in un posto così ospitale anche le moglie le mogli sono difficili da trovare ci sono poche donne queste moglie e con queste moglie appunto si deve ridere ridere per gli esquemesi vorrebbe dire far l'amore no e nuca ancora non ha trovato per tanto tempo la donna giusta per ridere e allora vengi da trovare gli amici e dato che gli esquemesi sono un popolo un po primitivo ma molto semplice candido secondo me bisognerebbe vedere se effettivamente così non è stato romanzato troppo nel film un amico addirittura lo invita a ridere con la sua con la sua moglie lo invita lui stesso e quasi si offende quando in hooke dice no non voglio dai voglio ridere con una donna che amo e che sia solo solo per me ma poi tante altre cose un mondo così un modo è un mondo così diverso dal nostro ma così bello così poetico così semplice che in fondo per vivere bene bastano per vivere bene bastano poche cose bastano vivere in semplicità senza tutta questa tecnologia come lo erano questi esquemesi che poi parlano sempre anche loro nel loro modo di parlare in terza persona no che cosa vuol dire beh bisogna vedere il film perché un modo appunto simpatico di vedere come comunicavano fra di loro però è bello è bello vedere questa comunità primitiva semplice che vive di poche cose il cui unico obiettivo come lavoro è quello della sopravvivenza trovare del cibo procurarsi il cibo fare una famiglia avere una casa un igloo e tanto basta ecco come dovremmo imparare da queste popolazioni anthony queen con le sue fattezze particolari lui era appunto di lui era di origine messicana con questi occhi orientali sempre il suo viso si è adattato a personaggi asiatici personaggi particolari personaggi personaggi esotici un po come jul brinner e qui perfetto anche come eschimesi anthony queen ha fatto l'indiano ha fatto l'eschimese ha fatto ha fatto diversi tipi diverse caratterizzazioni con quel suo viso particolare un po da boxer un po da un po da gaucho un po da spagnolo un po da tutto ecco un viso che si è adattato a tantissimi ruoli non ricordo anche quando ha fatto a paul gauguin in last for live brama di vivere per la vita di vincent van gogh con protagonista grande kirk douglas e qui allora invece esco in mese ombre bianche perché queste persone nell'immensità dell'antartide canadese sono come delle ombre bianche perché si confondono con il bianco candido di quel paesaggio ed è bello è bello immergersi in questa nuova cultura in questa nuova atmosfera e pensare un po cercare di pensare un po come pensavano loro a queste ombre bianche noi che non siamo più capaci di vivere senza tecnologia senza cellulari senza altre cose invece forse per essere felici basterebbe molto meno molto poco basterebbe avere appunto una compagna con cui ridere basterebbe vivere di quello che la natura da è però forse rimangono solo parole no però un film poetico un film da vedere bello molto bello è un film che può piacere a tutti nella sua semplicità nel suo modo di di porsi ombre bianche 1960 nicolas rei regista anthony queen il protagonista